Beh, allora, nello specifico io non ti direi più di tanto. Certo è che con il messo cordoglio per Antonino, che era una persona che ha fatto una scelta di vita e nonostante quello, come hai già detto, era molto attento ai suoi animali. Cosa succede? Succede un incidente, qualcosa di anomalo, qualcosa che poi ha portato purtroppo alla morte di Antonino stesso e anche dei suoi cani. Gli altri tre cani che erano con lui hanno in qualche modo subito quello che stava succedendo. Due sono, diciamo, più docili, particolarmente, forse da meno tempo che l'avevo, questo esattamente non te lo so dire, sono stati presi dai carabinieri e consegnati immediatamente agli operatori di AISA, con la quale collaboriamo spesso per alcune attività, loro aiutano noi, noi aiutiamo loro, in modo da avere questa collaborazione fittizia che porta sempre a risultati positivi. Nello specifico avevamo la pitbull, l'hamster femmina, che era particolarmente affezionata ad Antonino e, di fatti, chi lo conosce avrà visto decine di foto della cagnolona insieme a lui. Era chiaramente particolarmente scossa da questa cosa e non si lasciava avvicinare. Ci sono voluti diverse decine di minuti per riuscire in qualche modo ad attenuare quella che era il suo nervosismo, a riuscire ad avvicinarla fino al punto di riuscire ad attrapparla con un guinzaglio e riuscire poi così, una volta presa, a portarla in sicurezza all'interno del veicolo di AISA, dove può essere condotta insieme alle altre due al canile. Ora i tre cani sono al canile e lì opererà a capire cosa succederà in funzione di eventuali eredi o di chi potrà o dovrà prendersene cura. Ecco appunto, quindi tu ci hai già premesso il fatto che ancora adesso il destino di questi tre cani è di fatto incerto. Sono al canile, bisognerà attendere eventuali proprietari, eventuali eredi, come hai detto giustamente tu. Io immagino che in caso di mancanza di eredi o di mancanza di interesse da parte degli eredi, lo dico anche perché Antonino aveva un sacco di amici, io immagino che ci sarà la possibilità per qualche amico particolarmente affezionato ad Antonino di poter avere questi cani, poter adottare questi cani, secondo te, in caso ovviamente, lo abbiamo detto, non ci dovessero essere eredi o se non dovessero essere interessati. Guarda, io mi sento di suggerire di non fare la corsa alla proposta o alla richiesta, ovvero in questo momento tutto è ancora al vaglio degli inquirenti, di cosa è successo, come è successo, chi come quando e perché, per cui i cani stanno certamente bene, il canile è un luogo in cui gli animali vengono accuditi al meglio possibile, è chiaro, non è come essere sul divano di casa, però certamente è ben meglio che essere lungo una strada ed essere magari investiti o creare incidenti. Detto ciò, io consiglierei di attendere che le varie amministrazioni, le varie realtà in campo diranno cosa sarà possibile fare. Nel momento in cui verrà sbrogliata questa matassa, nel senso che sarà possibile accedere o prenotarsi o richiedere di poter adottare questi animali, certamente ci sarà una comunicazione e a quel punto è forse il caso di iniziare una proposta o a proporsi. Prima di quello, per evitare come spesso accade un intagiamento di richieste che poi diventa anche difficile gestire, valutare, eccetera, io attenderei di avere appunto dei riscontri oggettivi da parte di chi si sta occupando della vigente, tenendo presente che, come ho detto prima, c'erano già altre realtà associative come Angeli Landaggi che già si occupava di seguire, aiutare Antonino in quello che era la cura degli animali e anche loro ci saranno in campo per verificare quello che sarà possibile fare attenzionando quello che sarà il destino di questi tre animali. L'ultima cosa che mi sento di dire è che dei tre sopravvissuti, certamente, ripeto, la pitbull è quella che sembra aver risentito maggiormente della mancanza del proprio padrone. Difatti, anche una volta presa, particolarmente, cercava il contatto, nonostante tutto il tempo passato per cercare ad avvicinarlo con una bike, ripeto, non sono bellissimi vedere a sull'essi davanti un animale di certa stazza, con magari anche una certa nomea che ti abbaia contro, ma in realtà era solo dato da un timore, da una paura derivante da quella che era l'intervento giustamente compiuto in emergenza da parte di vigili del fuoco e quant'altro. Però capite che per un cane sirene, luci, fumo, non è quello che potrebbe essere per una persona e quindi questa situazione la certamente è un po' tesa. Una volta arrivata in canile, si è immediatamente andata a rifugiare sulla parte posteriore, quella coperta, e da lì controllava quello che stava succedendo, probabilmente ancora un po' con un sguardo perso nel vuoto, un po' incredulo, ancora non aveva ben realizzato che probabilmente non potrà più andare a coccolarsi vicino al suborbitario.